Il rigore fallito per ben due volte dal capitano Silvio Logiudice esprime il massimo rammarico per non aver sfruttato una grande occasione ed uscire almeno imbattuti dal salaci di Camarata. Dopo l'immeritata sconfitta subita nel derby con il Camarata in casa Gattopardo si commenta ancora lo sfortunato errore del centrocampista che non è mai stato uno specialista dal dischetto ma cui in virtù della sua freddezza ed esperienza rispetto ai più giovani compagni l'allenatore Giuseppe Balsamo ha fidato la responsabilità di trasformare il penalti concesso dall'arbitro per un fattore. Il giudice ha avuto la possibilità dal direttore di gara di calciare due volte dagli 11 metri per l'invasione in area nel primo tiro di alcuni giocatori locali ma prima ha colpito la traversa e poi non è riuscito ad inquadrare la porta difesa da Nicola Maggio. Se il capitano avesse trasformato il rigore la squadra palmese sarebbe passata in vantaggio e quindi la partita avrebbe potuto assumere una diversa svolta. Piangere sul latte versato comunque non ha più senso. Per Balsamo ai suoi ragazzi è necessario dimenticare subito l'immeritato passo falso di Cammarata e invece trovare anche nella prestazione i lati positivi della squadra capace di andare in vantaggio nei primi minuti. Con il difensore si reci di non abbattersi dopo il rigore fallito dal suo capitano e di conquistare il momentaneo 2-2 con il primo gol della carriera siglato in eccellenza dal promettente giovane attaccante Rosario Sorce. Il 3-2 e la conseguente sconfitta sono giunti a pochi minuti dal termine quando i gialloblu avevano ormai esaurito le energie ma rimane comunque l'impressione positiva e confortante di una gattopardo viva e non arrendevole. Una squadra cioè che sicuramente sarà costretta a lottare per conquistare la salvezza che avrebbe bisogno di puntelli specie a centrocampo per aver maggiori possibilità di permanenza ma la cui linea verde comunque non sembra fallimentare ma anzi è destinata a dare maggiori frutti in questo lungo campionato. Grazie a tutti.